Sono 168 le persone censite dalla polizia locale durante i controlli interforse all'ex hotel Cinecittà che si sono conclusi da poco. Si tratta di 79 uomini, 62 donne e 27 minori. La maggior parte di nazionalità sudamericana attivate le procedure per accertare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale al momento non è emersa alcuna anomalia. Nel corso dei controlli i carabinieri della compagnia di Roma Casilina e del reparto specializzato Nas di Roma hanno ispezionato un ristorante e pizzeria inserito nello stesso complesso immobiliare e ne è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività perché sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie, carenze strutturali, trovato cibo non tracciato, prodotti scaduti e insetti infestanti. Collegato allo stesso locale è stato inoltre scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica per cui i due gestori sono stati denunciati.